Buonasera da Francesco Iuc, bentornati all'informazione bianco-celeste di LazioNews.eu Il giorno dopo la brutta sconfitta nel derby, la Lazio deve raccogliere i cocci, riordinare le idee dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Per il momento lo farà però lontano dal campo perché la ripresa degli allenamenti a Formello è prevista solo per mercoledì in vista della sosta per le nazionali. Sono ben 14 i giocatori impegnati con le rispettive selezioni ovvero Beriscia, Candreva, Parolo, Lulic, Biglia, Milinkovic, Savic, Cataldi, Kijna, Hutto, Onasi, Economidis, Felipe Anderson, Basta e Giorgevic. La sconfitta ma soprattutto la prestazione o meglio la non prestazione della squadra di Pioli però richiama delle analisi precise a partire da quelle statistiche perché contro la Roma si è visto il peggior dato della gestione Pioli per quanto riguarda i passaggi completati nella metà campo avversaria e anche il dato generale sui passaggi all'arma e non poco numeri non esaltanti neanche per Lugas Biglia che pur correndo più degli altri ha lasciato spenta la luce anche Miro Closier non ha di che sorridere quella sbagliata clamorosamente ieri nel derby degli ultimi minuti è stata la sua prima conclusione stagionale in un totale di 272 minuti giocati è sua la media peggiore di tutta Europa numeri impietosi così come fa riflettere che la Lazio abbia la seconda peggior difesa del campionato dopo solo il fanalino di coda Carpi detto della sciagurata direzione da parte di Tagliavento nel match di ieri con Lazio che con l'arbitro Ternano è una tradizione diciamo abbastanza sfavorevole elemento questo sottolineato anche datare nell'intervallo i problemi però del Lazio arrivano da lontano sì perché dopo la bella cavalcata di un anno fa bisognava rinforzare in maniera importante questa squadra con innesti di qualità e personalità per la Champions come spiegato dal nostro direttore Paolo Cericola serviva un segnale anche per la tifoseria e questo c'è stato ma in maniera completamente negativa perché l'impressione è che questo sia il presente ma anche il futuro di questa Lazio il mercato deficitario pesa come un alibi e in più si aggiungono le problematiche sui rinnovi di Lulic, Marchetti e Biglia quelle relative all'assegnazione della fascia di capitano e alcuni rapporti sfilacciati inoltre Piore alla ricerca della mentalità vincente ha fallito tutti gli appuntamenti importanti la Lazio è settima in linea con il suo trend con un monte in gaggi che è passato dai 62 milioni di tre stagioni fa ai 48 attuali ora serve umiltà e coesione perché i numeri non mentono mai per parlare del K.O. di ieri Lazio News.eu ha invece contattato l'ex difensore bianco celeste Beppe Biava sconfitta che fa male ma la Lazio ha tutti i mezzi per tirarsi su ci vorrà più rabbia ma anche l'anno scorso la Lazio fece meglio da dicembre intanto già da domani alle ore 10 saranno in vendita i tagliandi per il match dell'Olimpico contro il Palermo del 22 novembre alle 15 mentre dalle 12 di mercoledì 11 sarà possibile acquistare quelli per la sfida casalinga di Europa League contro il Dnipro in programma giovedì 26 novembre alle 19 in una domenica nera per i grandi le gioie arrivano tutte dalla weekend del settore giovanile bianco celeste goleala della primavera di Inzaghi che stende 8 a 1 l'avellino e rialza la testa in vista della Supercoppa di sabato col Torino ottima reazione anche per gli under 17 di Santoni che rifilano un 4 a 0 alla Como mentre gli under 15 di Ruggeri superano 1 a 0 la lupa Castelli Romani vittoria anche per giovanissimi fasciabie elite e giovanissimi provinciali giornata varia di gioia invece per i Laziali in prestito con il solo Filippini a esultare quella seconda volta di fila impiegato dall'inizio con la Provercelli vittoriosa ancora per 1 a 0 bene stracoscia anche se la Salernitana esce sconfitta in casa del Bari mentre Perea torna finalmente titolare ma il suo troio è sempre più ultimo in Ligan per Lazio News.eu Francesco Iucca